Architetto Brunello di Cunzolo, lei nel nuovo piano di zona sociale costituito tra i comuni di Battipaia, Bellizia e Olevano ha osservato che la convenzione stipulata dal sindaco Mimmo Volpe è diversa da quella varata dal Consiglio Comunale di Battipaia. Inoltre Volpe lo accusa di aver preso una cantonata. Lei che cosa dice in merito? Caro Mimmo Volpe, se io ho preso una cantonata tu hai preso un palo, ma il problema non lo devi porre così perché sei tu che hai deliberato nel Consiglio Comunale del 5 luglio con la delibera numero 13 l'atto convenzionale che il Comune di Battipaia aveva approvato a maggio, il 3 maggio di quest'anno. Quindi prima tu prendi atto che in quello del Comune di Battipaia manca completamente l'articolo 7 quindi non è un refuso, manca completamente l'articolo 7. Quindi che avete firmato? Perché guarda, insomma, se non impugnerà nessuno, impugneremo noi quest'atto indecente ed è indecente perché tu che hai sempre governato Cecilia Francese, che ha sgovernato Battipaia ci hai condotto ad essere sudditi prima di Ponte Cagnano, oggi di Bellizzo. Il prezzo che noi abbiamo pagato a Ponte Cagnano l'hai dichiarato anche tu, l'ha dichiarato la sindaca francese. Tu hai detto che grazie al Ponte Cagnano noi che ci ha dato l'approvazione siamo usciti. Bene, ci è costato 4 milioni e mezzo a noi fino a oggi. E questa storia dell'uno vale uno tu la stai ripetendo perché ti conviene, ma a noi non conviene, rispetto al governo del prossimo piano di zona sociale. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma lo rimando a una prossima volta. Anzi, scusami, visto che tu sei il sindaco di Batti Bellizzi, siccome la sindaca confronti non ne fa, ti invito ad un confronto. Tanto comandi tu.